Non ce l'ha fatta il nigeriano di 40 anni trovato in fin di vita nella serata di mercoledì scorso davanti al supermercato PAM di Poggio a Caiano. Troppo gravi le sue condizioni per sperare in un miglioramento del quadro clinico. L'uomo è deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Prato dove era arrivato in condizioni disperate con una frattura al cranio. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il quarantenne è caduto sbattendo violentemente la testa sull'asfalto in seguito a una crisi epilettica. La procura ha subito liberato la salma senza disporre l'autopsia. Da tempo il nigeriano soffriva di epilessia tanto che già un anno fa come è stato riscontrato dalle verifiche effettuate dai carabinieri all'ospedale era stato ricoverato e curato. Nessun mistero dunque. In un primo momento era stata presa in considerazione qualunque ipotesi compresa quella di un'aggressione o di un litigio avvenuto prima dello svenimento e comunque causa del malore. Invece l'uomo si è accasciato a causa della crisi epilettica e il malore è stato talmente improvviso e forte da farlo crollare al suolo senza possibilità di chiedere aiuto o cercare riparo o appoggi. Il nigeriano era conosciuto appoggio a Kayano perché spesso assieme a un connazionale stazionava fuori dal supermercato alla ricerca di qualche moneta per sbarcare il lunario. Da anni in Italia viveva a Montemurlo. Al momento i carabinieri non sono ancora riusciti a rintracciare i familiari dell'uomo.